... Voglio rassicurare i cittadini e gli abitanti di Napoli Est relativamente ad una notizia apparsa stamattina su alcuni organi di stampa che parlavano di una discarica che dovrebbe nascere nell'XICM. Non è così, nel senso che lo dico in maniera benevola, perché noi abbiamo lì un progetto e abbiamo approvato una delibera con cui faremo e stiamo facendo di un problema una grande risorsa, cioè un'isola ecologica. Il DM 2008 prevede nelle autorizzazioni tutta una serie di raccolte differenziate che si possono fare nelle isole ecologiche e noi a Napoli abbiamo realizzato 10 isole ecologiche, l'ICM oggi sta funzionando come polo logistico di Asia per le isole ecologiche e lì avremo intenzione di completare dei lavori che ci sono stati anche detti dall'ARPAC, dall'ASL, noi stiamo temperando a quelli che sono anche gli impegni che abbiamo presi con i cittadini, con il comitato e c'è un protocollo di intesa dove stabilisce perfettamente quello che si farà lì, quindi noi lì non avremo la gestione dell'umido. Nell'allegato tecnico che ovviamente noi abbiamo pubblicato, il DM 2008 prevede tutta una serie di elenchi di rifiuti, poi c'è il nostro regolamento delle isole ecologiche e c'è il protocollo di intesa firmato con i cittadini, con l'amministrazione che noi stiamo rispettando fin dal 2019 che non prevede la gestione dell'umido all'ICM, quindi non solo lì non nasce una discarica, ma lì sta nascendo una grande opportunità nella filiera dei rifiuti differenziati nella città di Napoli, quindi voglio davvero tranquillizzare i cittadini e soprattutto faremo ancora ulteriori incontri e soprattutto, approfitto per dire ai cittadini, andate alle isole ecologiche, quello sarà un altro centro di raccolta comunale e non una discarica.